Dottoressa Palomba, ha avuto riscontro dopo la sua denuncia nella conferenza stampa dell'altro giorno da parte dell'amministrazione comunale? Assolutamente, non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Sono in attesa di atti e documenti da parte del commissario prefettizio che è ancora nella nostra sede, sia ovviamente dai organi competenti. Rimango in attesa di disposizioni. Lei però, a quanto pare, ha avviato un'azione legale, visto che l'amministrazione comunale, dopo continue sollecitazioni da parte sua, non ha ancora rilasciato l'autorizzazione? Sì, ci siamo affidati in uno studio legale. Sicuramente verranno esperite tutte le cause legali nei confronti del comune di Pozzuoli. Ma adesso con il nuovo sindaco c'è probabilità, possibilità di avere un dialogo un po' magari diverso? Auspico sicuramente un colloquio, quanto prima, con il nuovo sindaco, a cui esprimo ovviamente tutte le grandi congratulazioni per questo plebiscito elettorale e a riguardo confido in una proficua collaborazione interistituzionale.